Adesso vediamo il barrage di Karim e il Zogby con Amelia. Dovrà prendere qualche rischio in più sull'ingresso della combinazione dove Willem ha un filo rallentato e dopo non vedo molte chance di guadagnare terreno, di guadagnare secondi, è stato veramente rapido. Partito. Un buon salto sull'uno e anche sul due. Sì, il rischio lo ha preso, è andata bene. Sta veramente esagerando, la cavalla gli risponde. Più rapido. Mancano due salti, penultimo. Grande galoppata, un pochettino di traffico con le redini, ma... Credo più veloce. Sì. Più veloce. Ha preso il rischio che, avevo detto, difficile da prendere per un ingresso di combinazione di quell'altezza, ma ha messo una buona distanza, un buon equilibrio e tutto ha funzionato. Dopo, soprattutto, ha preso un rischio enorme sull'Oxler multicolor verso la porta e ha continuato a galoppare da fondo campo. E' riuscito lo stesso a girare per aria. E' riuscito lo stesso a girare per aria.